Il rapporto, no scusa, nel giornale di ritorno, carta su a sinistra non passava la corso. Non per dare insegnamento. Poi, già lì, infatti, vedo perché sono stati con il rapporto. Però, purtroppo, il foglio è una notizia, è un raggio, cioè, è una fine di dire. Ma a me sono pianto e mi dice, sia che le gallegose non ce la facciamo, che le chiedono più. Chi mi è? Ma qua, sono in italiano. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti